Siamo in Cina, Din Vuling, il mistero del villaggio cinese privo di zanzare da un secolo, non ho capito Ugo? Ci hanno mandato anche una foto del villaggio Andrea E' questo il villaggio? E' questo il villaggio? Sì è questo qua Andrea Capirei? E' una capanna il villaggio Villaggio E' una capanna Lì non ci sono zanzare da un secolo, come mai? Non lo so Andrea, praticamente c'è questa cosa strana che nessuno riesce a capire Che in questo villaggio non ci sono zanzare Perché il villaggio è a forma di zampirone, capito? C'ha la forma dello zampirone, quindi le zanzare volano lontane, capito? Siamo in Cina Il mistero del villaggio cinese privo di zanzare da un secolo, perché se le magnano Se le magnano le zanzare, ecco perché c'è stato le zanzare Se le magnano le zanzare Se magnano i vidistelli, figuriamoci le zanzare In questo villaggio, in Bordorino vanno in Cina a bocca aperta, come la Leotta, uguale Zanzare, Moscerino, buono Le caniparabrezza delle macchine Vanno nei parcheggi Buona zanzare, Moscerino Andrea, da tavolo Su Studi P